Assessore, Vieste è sempre più miniera di cultura? Sì, oggi è una giornata storica per il Comune di Vieste. Abbiamo appena visionato i risultati di quelli che sono stati degli studi posti in essere dall'equipe del Professor Volpe, coadivati dalla Sovrintendenza Archeologica, che mostrano appunto un patrimonio enorme del quale siamo in possesso e che cercheremo di valorizzare nel miglior modo possibile. Da questa intesa cosa vi aspettate? Ci aspettiamo sicuramente una progettualità condivisa anche con la Sovrintendenza e soprattutto non finalizzata solo ed esclusivamente al sito dell'Isolotto di Sant'Eufemia che veramente contiene un tesoro di iscrizioni, un tesoro di documenti ancora inesplorati e quindi noi crediamo che sia fondamentale un percorso di condivisione anche per tutto quello che è il nostro patrimonio culturale e archeologico presente nel nostro territorio.